Buona giornata. Quanto e come gli atti che compiamo aiutano a prepararci meglio alla Pasqua e aiutano anche a prepararci a quelle che sono anche delle abitudini che possiamo avere, come è difficile cambiare le abitudini. Forse oggi in quello che viviamo possiamo cambiare questa piccola abitudine là dove c'è, certamente. Quello di stasera prima di andare a dormire smettere di guardare come ultima cosa il cellulare. Sembra strano dirselo, proprio attraverso quel cellulare che tu stai vivendo adesso in questo momento. Ma è proprio così, smettere di finire col cellulare la nostra giornata perché non può essere con un'altra cosa, con un altro pensiero, con un'altra o preghiera o anche attenzione, desiderio da avere oppure gesto di carità da fare in casa. Com'è importante a volte cambiare queste abitudini ma che in fondo fanno cambiare noi per un bene più grande o per un'attenzione a chi mi è accanto che forse in questo momento desidera di più. Il Signore ti illumina e ti benedica. Buona giornata.